e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi man mano che passano i giorni più grandi scoperte vengono svelate nel nostro tanto amato fortnite perché ragazzi sappiamo benissimo che epic games è super brava a creare una storia principale e a condire tutto il resto con dei piccoli eventi che pian piano vanno da soli ma noi non riusciamo a capirli per questo ragazzi nel video di oggi voglio un pochettino parlarvi dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo sotto l'occhio di tutti nella mappa davvero assurdi ragazzi tanta roba incredibile parleremo anche dell'evento della primavera insomma è stato trovato nei file di gioco qualcosa di super interessante che potrebbe dare il via al primo evento ufficiale della season numero 8 e ovviamente insieme a un po' di leaks non mancheranno le early news per tenervi sempre aggiornati su una delle cose più interessanti di questa season numero 8 prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per il grande supporto che date al canale ogni giorno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live dai che siamo lì quasi quasi ad arrivare a 300 punti nella modalità arena però prima la domandina raga dai la domandina lo sapete ve la devo fare perché ci tengo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda è molto interessante quale pack preferisci dai ragazzi preferite il pack del dark cupido o il pack lava ditemi un pochettino ragazzi il vostro preferito qua sotto nei commenti il mio rimane ancora quello del dark ranger sia perché mi piace come la mia skin preferita è il love ranger sia perché ci davano 2000 v bucks dopo aver speso 20 pleuri quindi ragazzi ditemi il vostro qual è sotto qua in descrizione ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance parliamo un secondo di questo lava pack in questa meravigliosa immagine recuperata nei meandri del web insomma un pack oramai disponibile per tutti 19 e 99 lo trovate nello shop di fortnite comprende due varianti delle skin leggendarie i backpack leggendari e anche il deltaplano che è praticamente il dragone che stiamo vedendo cavalcato da entrambe le skin ovviamente anche esso leggendario alcuni dicono che le ali sono un pochettino ingombranti io le ho viste mi piacciono il pack non è male però sono sempre questi 20 pleuri capisci non ci sono dentro neanche i v bucks non lo so non lo so non lo so però tutto sommato è sicuramente un pack che va perfettamente ad armonizzarsi con la con lo stile di questa season numero 8 dove più avanti andremo e più la lava vedrete che farà da padrone aspettatevi tante cose ragazzi dal nostro vulcano ma andiamo avanti e parliamo anche di una delle prime modifiche della mappa questa immagine l'avete vista ieri ragazzi è il primo come si dice la prima sezione di scavi che sono stati recuperati nel confine con il bioma del deserto là insomma vicino se non ricordo male a palmetto no questi sono sì vicino a palmetto dicono ragazzi che questi scavi oltre ad avere dentro un geyser perché se voi andate giù c'è proprio un geyser potrebbero collegare od essere il principio per la città sotterranea di cui si parlava addirittura nella season 4 ragazzi sapete ci sono i bunker che dovrebbero collegare insomma ragazzi ma l'immagine che voglio farvi vedere è questa ed è un'immagine incredibile sembrerebbe essere un altro principio di scavo ancora non disponibile in mappa ma che presto arriverà come vedete a palmetto paradisiaco tra l'altro per i più vecchi che giocano a fortnite si ricorderanno che tutta l'impalcatura intorno allo scavo è molto simile a quella che ci fu quando cadde il meteorite lo ricordo benissimo meteorite meraviglioso forever in my heart me lo ricordo proprio da dio e quindi ragazzi staremo a vedere cosa succederà con questi scavi che sono appunto parte della side story di questa season numero 8 ma andiamo avanti ed ecco qua un'altra cosa super incredibile e soprattutto molto interessante questo ragazzi è ufficialmente il primo evento della season numero 8 sono stati trovati nei file di gioco la data precisa relativa all'evento e la data ragazzi è il 15 maggio non sappiamo assolutamente cosa farà l'evento in che modo si svolgerà se succederà in game un po come quello del cubo o quello delle farfalle sappiamo però ragazzi che il 15 maggio succederà qualche cosa non appena saprò roba di più ve la dirò ovviamente anche a voi voi segnatevi questa data che poi andremo ad indagare di prepotenza ma eccolo qua ragazzi fa 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 le heli news ragazzi si sposta nuovamente l'elicottero e adesso lo troviamo la vicino al block decima posizione per il nostro elicottero che davvero adesso sembra aver completato tutta la mappa ne ha veramente le ha veramente passate tutte le city più importanti tranne pinnacoli che ancora non ha visitato ma non sappiamo come sempre ragazzi quale sia la sua vera funzione perché questo elicottero si è mosso che cavolo sta a significare boh appena sapremo di più ovviamente ragazzi lo saprete anche voi ma andiamo avanti ed eccolo un altro grande cambiamento alla mappa siamo a spiagge snob forse non lo avete notato forse lo avete notato ma ragazzi la seconda delle cinque ville di spiagge snob si sta trasformando o comunque è già stata presa dai vichinghi abbiamo delle immagini molto interessanti che ci fanno vedere oltre alla parte esterna anche altre angolazioni e come vedete ragazzi incredibile gli interni sono completamente modificati un po come successe per la prima casa quella con il bunker ed ecco qua il pollazzo con pesci e arrosti appesi insomma ragazzi la domanda ancora è allora ci sono gli scavi c'è l'elicottero che gira adesso i vichinghi stanno modificando spiagge snob ragazzi non trovo la connessione non capisco perché epic game stia facendo queste cose cioè è un rinnovo della mappa cioè capisco come rinnovo della mappa mi metti il secondo piano del durburger al al corso commercio ci può anche stare ma qua stanno veramente facendo cose che apparentemente non hanno filo conduttore tra di loro quindi io ve le faccio vedere magari a voi viene in mente qualche cosa che a me non viene in mente e perché no me lo scrivete qua sotto nei commenti ma chiudiamo ragazzi con un'altra importantissima notizia sapete che qualche tempo fa circa due o tre settimane fa ci fu il grande problema una valanga di codici per riscattare la honor guard furono praticamente regalati in giro per il web tanto che venne blindata la promozione e finalmente da oggi anzi da ieri ragazzi è di nuovo disponibile riscattare la honor guard vi ricordo che dovreste avere l'honor 10 ovviamente per poterla ottenere ma se ancora non lo avete fatto beh ragazzi adesso basta solo andare sul sito e sicuramente ci sono tutti i passaggi che vi indicheranno come ottenerla beh ragazzi che dire questa season continua ad andare avanti noi ridiamo noi scherziamo ma l'abbiamo già passata per metà staremo ovviamente a vedere cosa ci riserverà il futuro per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando codice creator xyuderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao ciao